Attendiamo da Roma con fiducia notizie che potrebbero determinare il passaggio dalla nostra regione in zona arancione. Per i veri dati che noi sosteniamo essere positivi da alcuni giorni dovrebbero consentire sicuramente di essere in zona arancione. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, la regione Lombardia ha sempre mandato dati puntuali, precisi e corretti. Quindi contesto nella maniera più vibrata le false notizie che girano circa presunte irregolarità nella trasmissione. I dati sono stati sempre mandati in maniera puntuale, trasparente e precisa.